rieccoci qua e ritrovati questa volta senza senza inconvenienti siamo in compagnia insomma di due big della robotica insomma siamo con massimo calvetto kit of sale di comau robotica e stefano mantino product manager racer 5 cobot sempre di comau grazie per essere con noi grazie massimo grazie stefano grazie a voi grazie a voi e grazie a comau di aver scelto di partecipare insomma questa questa nostra iniziativa digitale siete l'ultimo tech talks della giornata entrerei quindi subito nel nel vivo del discorso e insomma siete qui per parlarci di robotica collaborativa quindi vi chiederei subito di qual è di spiegare qual è l'approccio di comau a questo particolare segmento della robotica di cui anche oggi nell'arco della giornata abbiamo parlato abbiamo detto che ha insomma è quello con le potenzialità applicative più ampia sì bene diciamo parto io intanto buon pomeriggio a tutti comau non è stato uno dei primi ovviamente player ad affacciarsi al mondo della robotica collaborativa e quando l'ha fatto l'ha fatto in maniera un pochettino differente da dal lagone in cui si è trovato a competere e effettivamente siamo entrati sul mercato con una macchina veramente molto speciale nel mondo collaborativo una macchina da 170 kg e due metri otto di sbraccio che già di per sé è una cosa un po strana nel mondo della collaboratività con una tecnologia che consentiva di rivestire che consente perché è una macchina tuttora utilizzata che stiamo vendendo rivestiamo il robot un robot industriale comau con delle pelli all'interno della quale sono legate una serie di sensori che consentono con la certificazione di rendere la macchina collaborativa macchina e i tool collegati alla macchina quindi gri perché uno degli elementi importanti nell'ottica quando si parla di robotica collaborativa ci siamo quindi affacciati a questo mondo a questo mondo un po diciamo da un punto di vista leggermente diverso dal diciamo dalla da tutti gli altri amici della colla che hanno prodotto che producono robot collaborativi muovendoci nel mondo della robot robot collaborativa abbiamo visto che effettivamente era scontato c'è stato richiesto di sviluppare anche un robot di taglia più piccola collaborativa e quindi da qui ci siamo chiesti come come muoverci cioè fare un qualcosa di collaborativo puro un qualcosa di di nuovo con la stessa tecnologia di quello grande lascio poi stefano la la spiegazione nel dettaglio il concetto è stato quello comunque di mantenere come base un robot industriale e su questo come nel caso di aura che robò il nome del robot da 170 kg anche il cobot 5 il race al 5 cobot di coma o proprio l'ultimo entrato nella nostra gamma a come base un robot industriale e questo ci consente di avere tutta una serie di vantaggi e direi che stefano poi più tardi vi illustrerà quindi diciamo ci siamo arrivati pian pianino e adesso cerchiamo di ritagliarci anche noi il nostro spazio uno spazio importante benissimo ti ringrazio massimo e insomma siete reduci proprio da dal dal lancio di racer 5 è giusto avvenuto la scorsa settimana giusto ecco allora vi chiederei di spiegarci qualche cosa di più avete definito racer 5 un cobot speciale ecco vi chiederei il in che senso speciale e capire che cosa differi in che cosa differisce rispetto ad altri cobot che sono presenti sul mercato a questo punto credo la parola passi appunto a stefano giusto sì ok allora provo a interrompo un attimo stefano invito il pubblico che ci sta seguendo anche a formulare domande e essere partecipi insieme a noi a questo tech talks vai stefano perfetto allora perché perché speciale perché di base è un robot industriale e siamo riusciti a rendere un robot industriale un robot collaborativo in altre circostanze il modo più efficace per trasmettervi questo prodotto sarebbe stato effettivamente toccarlo no con mano farvelo provare farlo apprezzare purtroppo ci troviamo esatto purtroppo in questa condizione prima o poi esatto spero che tutti quanti abbiate modo poi di fare anche questo 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 test provo a compensare diciamo questa mancanza con un breve video un minuto e mezzo dove facciamo vedere un po l'approccio di sviluppo che abbiamo avuto per questo robot siamo partiti dal racer 5 un robot già nella gamma dico mao da parecchi anni che è un robot velocissimo uno tra i più veloci del mondo e quindi tutte le caratteristiche del robot racer 5 sono state mantenute per provare a creare una versione collaborativa questa versione collaborativa ha la peculiarità che forse veramente è quello che lo rende in qualche modo speciale di saper riconoscere appunto la presenza o meno di un operatore che entra nella sua area e in automatico cambiare la sua modalità di funzionamento da racer 5 industriale che come di fatto è a robot collaborativo un racer 5 collaborativo in questo caso lo vediamo per esempio associato a un laser scanner ma possono essere diversi i dispositivi di sicurezza che riconoscono la presenza di un operatore appena l'operatore non è più nell'area del di funzionamento del robot vediamo che il collaborativo dimentica di essere un collaborativo e comincia e si ricorda di essere un robot industriale no quindi raggiunge quelle prestazioni elevatissime detto ciò abbiamo quindi sicuramente introdotto questo robot se vogliamo ibrido no che quindi ha queste queste due anime ovviamente tutta la parte di sicurezza è stata ampiamente certificata abbiamo certificata con col tube sud che è una società di certificazione indipendente no che è riconosciuta a livello mondiale e dopodiché abbiamo cercato però di di introdurre dei delle caratteristiche di mantenere più che introdurre tutte le caratteristiche che portano dei vantaggi anche sulla gamma industriale sul robot collaborativo e mi sto riferendo a tutti i servizi che mi ho portato direttamente in flange direttamente al polso quindi abbiamo dei servizi pneumatici per l'area diretta o comandata con elettrovalvola abbiamo portiamo degli io digitali portiamo della potenza tutto quanto posizionato vicino al polso ecco magari condivido e poi smetto di di occupare lo schermo di nuovo una una rapida presentazione una possibilità offerta quindi sfruttala anche perché è più chiaro così esatto allora quindi abbiamo detto che partendo dal robot industriale tutte le caratteristiche che vediamo mantengono sono le stesse identiche del robot di base no di partenza quindi 5 kg di payload 800 m di reach una ripetibilità molto alta 0.03 mm e poi appunto le altissime velocità che raggiunge parliamo di 6 metri al secondo ripeto era è uno attualmente uno dei dei robot più veloci al mondo tutto questo l'abbiamo certificato ovviamente e quali sono ovviamente i benefici e avere un collaborativo che ha tutti i vantaggi di un robot industriale ripetibilità accuratezza tutti i servizi appunto portati fino al polso e in più abbiamo permesso che il collaborativo riconosca in automatico la presenza o meno dell'operatore per capire in maniera intelligente in maniera smart quando funzionare in una modalità e quando funzionare nell'altra per ottenere delle efficienze elevate perché noi possiamo sfruttare tempi ciclo più ridotti quando l'operatore non è appunto dentro dentro la sua area per per parlare un pochino meglio ma giusto per farvi capire cosa intendevo per servizi al polso vediamo che a sinistra sono queste due immagini del cobot abbiamo da una parte due connettori quindi connessione ethernet per la trasmissione di dati input output digitali e qua abbiamo anche una potenza 24 volt per poter alimentare per esempio dei dei tool elettrici dall'altra i servizi pneumatici per l'area diretta e quella comandata dell'elettrovalvola e poi abbiamo introdotto questi due pulsanti questi qua sono inediti non c'erano la versione standard proprio perché essendo un robot collaborativo deve interagire direttamente con con l'operatore e per poter interagire abbiamo introdotto questi due pulsanti uno permette di entrare nella manual guidance quindi di nuovo questo robot può essere mosso manualmente e l'altro invece è diciamo customizzare l'operatore in base alle esigenze quindi in base a quello che gli si vuole far fare possiamo diciamo addestrare questo pulsante per avviare cambiare ciclo rallentarlo cambiare attività fermarsi per diverse cose e poi una buona una buona caratteristica era stata molto apprezzata già sull'aura il nostro primo collaborativo era proprio dare questo feedback continuo all'operatore dello stato in cui sta lavorando la macchina se collaborativo sarà ci sarà una una la striscia led montata alla base al collare vedete alla base che tra l'altro è a 360 gradi quindi da una consapevolezza da ogni angolazione se è verde vuol dire che siamo in modalità collaborativa quando industriale invece sarà spento e visto abbiamo introdotto questa 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 stricolare led abbiamo detto la fiamma viene mangiando abbiamo introdotto anche altri codici colori che ci può che possono essere utile all'operatore no quindi quando c'è la possibilità di riconoscere quando c'è stata una collisione se c'è qualche allarme ce lo segnala da lontano quindi non c'è bisogno di andare vicino al termine di programmazione e riconoscere un allarme ma già da lontano abbiamo questo tipo di consapevolezza ok quindi il linguaggio dei colori è un linguaggio universale insomma daltonici permettendo però è inconfondibile ovviamente abbiamo anche fatto degli studi per i daltonici sono abbastanza riconoscibili sicuramente rosso è riconoscibile da dagli altri colori blu e verde per poterli rendere riconoscibili blu comincia a lampeggiare quindi anche insomma abbiamo fatto anche quel tipo di di studio abbiamo fatto una battuta ma in realtà c'è anche un qualcosa di di concreto quindi fa piacere in qualche modo a che fare con la sicurezza quindi è sicuramente uno degli elementi su cui porre molta molta attenzione assolutamente sì ok ok ma direi che a grandi linee questa diciamo la novità introdotta da comau è perché secondo noi un prodotto abbastanza inedito nel panorama collaborativo questo questo prodotto ibrido no questo questo cobot da due anime che poi può essere a tutti gli effetti un robot industriale di altissime performance performance oppure un robot collaborativo innocuo per l'uomo anzi strumento diciamo utilizzabile dall'uomo per fare le proprie attività senti stefano ma per capirci bene visto che il pubblico ci segue un pubblico appunto tipicamente industriale magari sono molte più piccole pmi che potrebbe essere interessata un'applicazione di raser 5 cobot queste caratteristiche innovative in che modo si trasformano in un valore aggiunto per l'utilizzatore in un valore aggiunto reale e soprattutto per quali applicazioni cioè immagino che quando l'avete sviluppato e concepito siate partiti da da un'idea di di applicazione tipo in cui andarlo applicare ecco esatto ovviamente quando quando decidiamo di investire dei soldi per delle risorse per sviluppare qualche prodotto la prima domanda che ci facciamo è appunto in quali applicazioni o se ci sono delle applicazioni che hanno queste 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 esigenze quindi sono veramente tante le applicazioni volendo diciamo dare un profilo generale di queste applicazioni dovremmo rispondere in quale applicazioni abbiamo necessità di avere alte velocità abbiamo necessità di avere prestazioni ripetibilità molto elevate ma dobbiamo migliorare l'ergonomia dobbiamo permettere al robot di lavorare insieme all'uomo quindi di essere collaborativo quindi delle caratteristiche di sicurezza certificate e ovviamente in questo caso riusciamo anche a gestire l'attività in spazi più ridotti perché spariscono per esempio le gabbie entro il quale solitamente dobbiamo segregare una macchina che non poteva lavorare fianco fianco con l'operatore quindi fatta questa premessa quindi ci siamo domandati quali potrebbero essere queste applicazioni le applicazioni possono essere davvero diverse e devo dire che poi va analizzata applicazione per applicazione faccio un esempio una delle applicazioni più adatte è un'applicazione di pick and play se non spostare degli oggetti ovvio che ci sono applicazioni in cui non hanno necessità di andare a velocità elevate elevatissime e queste possono essere sicuramente applicabili ma non diciamo non è l'ottimo per questa soluzione e attività invece in cui avere un buon tempo ciclo di pick and place beh queste diventano diciamo perfette no per questo tipo di prodotto quindi cito pick and place oppure cito dispensazione machine tending quindi asservimento macchine confezionamento assemblaggio handling movimentazione in generale o anche a fine linea una palletizzazione possono essere davvero tante questo tipo di applicazioni ma quali sono tra queste beh quelle applicazioni che hanno bisogno di alta velocità ma un operatore che ci deve lavorare a fianco in generale dove troviamo queste applicazioni un po per anche capire in quale industrie andiamo ad entrare e anche in questo caso qua dipende molto dalle esigenze ma abbiamo visto con le nostre esperienze con entrando proprio a casa di clienti o di integratori che in generale tutto ciò che la general industry no quindi tutto ciò che fuori dall'automotive è molto compatibile e ha bisogno ha spesso richiede molto questo tipo di caratteristiche ma non escludiamo non è che non escludiamo abbiamo riscontrato anche ottimi feedback positivi e richieste dal punto di vista all'interno della dell'automotive dell'industria meccaniche della plastica e tantissimo nell'elettronica l'elettronica spesso avere un buon tempo ciclo è molto molto utile io credo che anche il settore proprio manifatturiero pensando come hai detto tu alla servimento alle macchine utensili possa essere un mercato assolutamente molto interessante visto anche in virtù di questa questa trasformazione che è in atto verso la digitalizzazione avere uno strumento che possa servire una macchina utensile come come racer 5 cobot può essere sicuramente può essere sicuramente un valido valido tools insomma e senti sono arrivate delle domande intanto il signor giacomo signor giacomo visone chiede e dice soluzione attesa da tempo di che ordine di prezzo parliamo e anche il massimo ci sei sì posso rispondere subito allora diciamo che l'ordine di grandezza in linea con le altre macchine collaborative sul mercato in questo momento preferirei se poi potete lasciare i miei riferimenti o quelli di stefano al signor giacomo sentirci poi separatamente perché dare un prezzo così un po sempre complicato cioè si rischia di dare qualcosa di capiamo che tipo anche perché le opzioni che ci sono collegate a questo robot sono differenti non c'è una versione solo di robot ci sono tre tipologie di macchine diverse quindi bisogna capire esattamente cosa serve stessa macchina ma con tre soluzioni differenti quindi però l'ordine di grandezza in linea con le altre macchine posso garantirlo ok perfetto allora c'è anche un'altra domanda dal signor saccardo bolognini luca chiede buongiorno com'è stato possibile certificare data secondo iso 15.066 robot in modalità collaborativa con velocità dell'ordine di 500 mm al secondo allora questa è sicuramente una domanda dritto al croccante perché è stata una grande sfida per noi e allora innanzitutto capisco subito che che signor saccardo è molto informato perché appunto la normativa che abbiamo fatto di un dovuto far riferimento la 15.000 066 quindi quindi esatto che la normativa che va a indicare tendenzialmente fatta molto semplice ci indica qual è il limite massimo di forza che può essere scambiato tra un operatore e robot in caso di impatto e quindi dobbiamo garantire che qualsiasi tipo di impatto avvenga sotto quel limite detta molto semplice cosa abbiamo fatto abbiamo fatto due cose il primo è limitare la velocità e cita anche quei 500 mm al secondo che sono corretti infatti in collaborativo non andiamo fino a 500 mm al secondo perché fino a 500 mm al secondo perché anche qui sempre la stessa normativa indica che in base a un risk assessment un'analisi dei rischi della cella dobbiamo valutare quali possono essere i possibili impatti con l'operatore e nel se per caso dovessimo valutare che gli impatti possono avvenire su parti delicate del corpo allora queste velocità vanno ancora abbassate ovviamente indichiamo come quindi da una parte riduciamo la velocità e dall'altra attiviamo un software che invece è disattivato durante il funzionamento industriale che l'abbiamo chiamato battezzato proprio safe collision detection function per i nostri collaborativi ed è stato certificato ed è stato quello l'oggetto di certificazione che praticamente va a garantire che le adesso non vorrei diventare troppo tecnico provo a farla semplice comunque le extra coppie quindi le forze che andiamo a erogare su ogni giunto non sorpassino certi limiti in modo tale che riusciamo in qualche modo a garantire che anche l'impatto finale sia sotto quei limiti ovviamente ci siamo presi anche un ampio margine di sicurezza quindi di fatto siamo lontani dai limiti imposti della legge e giusto per maggiore garanzia oltre aver certificato il software ogni cobot che esce da Comau lo testiamo dentro Comau in una cicla in una cella automatica dove simuliamo 60 impatti diversi e verifichiamo che per ognuno di questi impatti stiamo sotto quei limiti e di fatto ci stiamo quindi si può superare scuse faccio da solo perdonami stavo leggendo un'altra domanda signor saccardo appunto ho posto un'altra domanda che chiede se puoi superare i 250 mm al secondo se si sviluppa un adeguato risk assessment assolutamente corretto diciamo che noi diamo proprio anche un tool che ci permette di andare a identificare la velocità al quale programmarlo in base ai possibili impatti per intenderci i 250 mm al secondo vanno già a identificare quelle parti del corpo un po' più delicate quindi per esempio la bocca dello stomaco o altre parti un po' più delicate del corpo quando c'è da risk assessment l'eventualità di quel tipo di urto noi indichiamo di abbassare la velocità è sufficiente abbassare la velocità perché per una questione di inerzia di movimento abbassando la velocità andiamo a garantire anche di abbassare le forze scambiate forse forse troppo sul tecnico però visto che abbiamo un pubblico molto tecnico io ne approfitto per ribadire che colori delle regioni permettendo noi siamo come penso sappiate a grugliasco vicino a torino però siamo qua quindi se avete necessità ci sentiamo adesso vedremo come fare riferimenti venite lo provate lo vedete si può andare più nel dettaglio tecnico assolutamente comunque massimo ci sarà a posteriori di questo evento digitale quindi già dalla settimana prossima ci sarà modo di 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 insomma di fornirvi i dati di tutte le persone che hanno seguito questi tech talks insomma quindi comunque abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione in quarto d'ora quindi se il signor saccarlo altre domande approfitti molto volentieri senti intanto riprendo io con le mie domande che non sono così così scientifiche diciamo tanto ringrazio il signor saccarlo quindi insomma siamo riusciti a dare delle risposte adeguate grazie e non avevo dubbi insomma e sentire riprendo io con le mie domande prima avete avete accennato ad aurano al vostro primo cobot e quindi volevo capire se rester 5 cobot è basato sulla stessa tecnologia sulla tecnologia aura oppure in che cosa che cosa ha preso da quella ok allora questa è una domanda sì 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 no è tecnica quindi io parlo di prezzi non c'è problema io poi questo problema che se mi si dà spazio a me piace parlare delle cose di cui sono appassionato quindi sarà poi difficile fermarmi beh allora questa tra l'altro è una domanda che si aggancia benissimo quello che abbiamo appena detto no perché diciamo che la cosa principale che abbiamo in comunione con aura e che entrambi rispettiamo quella normativa sui collaborativi no quella 15000 066 come la si rispettiamo come 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 garantiamo che le forze d'impatto siano sotto un certo limite con due tecnologie completamente diverse perché perché le 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 necessità dovute dalla dimensione delle macchine sono diverse per ora abbiamo dovuto introdurre queste pelli che sono pelli che sensibili sia al contatto ma anche capacitive quindi in grado anche di prevedere l'impatto no perché già l'abbiamo impostata che già a due centimetri di distanza loro si accorgono che sta per avvenire un impatto ovviamente questa è una tecnologia al quale siamo stati vincolati di scelta perché era l'unica tecnologia che ci garantisse di seguire le le imposizioni normativa in sicurezza ovviamente è anche una soluzione tecnologica costosa e complessa quindi proprio per avere un prodotto più snello in termini di prezzi anche in termini complessità tecnologica perché un prodotto più semplice comporta anche meno malfunzionamenti meno meno tecnologie da meno manutenzione eccetera abbiamo deciso di non utilizzare le pelli che sicuramente diventa vincolante solo per robot di grandi dimensioni abbiamo deciso di agire unicamente via software quindi tutto quel quel software certificato col tool sud si basa su un software un software veramente complesso veramente efficace vi faccio una vi cito una delle sue caratteristiche per farvi capire quanto è complesso ma efficace siccome il va a confrontare praticamente quello che si aspetta dovrebbe assorbire ogni singolo motore con quello che effettivamente assorbe siccome è diciamo soggetto degli attriti e questi attriti possono evolvere nel tempo perché la macchina diciamo si usura nel tempo cambiano un po degli attriti caratteristici dell'oggetto oppure cambiamo range di temperatura in cui lavoriamo quindi possono essere tante le cose intorno che fanno sì che il nostro riferimento delle possa modificare abbiamo creato questo algoritmo adattativo che in grado di capire come evolve la vita della macchina e adattare il proprio sistema di riferimento in base a quelle informazioni garantendo così una ottima e una perfetta sensibilità rispetto a quella con cui esce durante tutta la vita di funzionamento della macchina quindi se vogliamo le tecnologie sono diverse perché in Aura abbiamo hardware meccanico e software di qua abbiamo software super diciamo raffinato interessante molto interessante insomma quindi parliamo anche di una sorta di machine learning del robot e che impara a gestirsi insomma comunica il suo stato di salute cammin facendo giusto per semplificare un po il discorso ho capito bene correttissimo ok perfetto senti e visto che abbiamo parlato di software allora toccherei un altro aspetto che secondo me è interessante perché pensando alla versatilità applicativa che può che può avere racer 5 cobot ti chiederei dal punto di vista della programmazione del di questo robot che cosa che cosa avete fatto cosa cosa è stato fatto allora il il racer 5 cobot nascendo come prodotto industriale viene programmato esattamente come un qualsiasi altro robot in particolare esattamente come il racer 5 cobot a livello di programmazione abbiamo anche introdotto un programma di formazione dedicato per l'uso e programmazione di questo pacchetto diciamo collaborativo no che va a spiegare alcuni alcuni accorgimenti da seguire e va anche a contestualizzare il sistema collaborativo quindi va a citare alcuni riferimenti anche del risk assessment per esempio che di cui parlava quella normativa la 15.066 ma poi cosa succede che l'operatore che nel quotidiano deve lavorare fianco fianco col collaborativo di conseguenza ed ecco perché abbiamo introdotto quei pulsanti di cui parlavamo prima che rendono molto semplice e intuitivo l'interazione col robot e a livello invece di di connessione ecco col sistema già che parliamo di software così come tutti gli altri robot come au anche il robot anche il cobot racer 5 cobot e diciamo abilitato per un'industria 4.0 no può essere integrato all'interno di un di un sistema di un di un sistema digitalizzato per citarvi ma questo è proprio tanto una un appello anche perché c'è poco tempo recentemente abbiamo fatto dei test con una rete 5g che abbiamo montato in comau che abbiamo abilitato il controllo del cobot da remoto utilizzando un dispositivo mobile 5g quindi diciamo che altamente versatile e lo stiamo addirittura testando con delle tecnologie che ci aspettiamo diventino diffuse nel giro di pochi di un breve periodo vedendo anche l'uso piuttosto diffuso che stiamo facendo ormai della rete delle rete informatiche della rete internet sarebbe auspicabile in questo senso ti ringrazio stefano senti è arrivata anche una un'altra domanda da signor luca che credo non sia il signor saccardo perché si firma solo luca chiede il machine learning di cui si è parlato può essere utilizzato anche in ottica di manutenzione preditiva per esempio per prevedere fermi macchina allora questa un'altra domanda molto croccante allora innanzitutto io ho insomma ho discusso con con all'interno del nostro team c'è una persona che per esempio sta seguendo l'installazione del cobot dentro questa cella 5g e le motivazioni per cui lo sta facendo sono proprio per la manutenzione predittiva cioè stiamo provando a integrare dei sensori collegati anch'essi in 5g che possono in qualche modo dare informazioni alla macchina e realizzare una manutenzione predittiva basandoci proprio sul machine learning e sono stato un po' richiamato quando ho visto tutto il nostro software dicendo questo non è proprio proprio machine learning perché mancano alcune caratteristiche ma di forma mettiamola così di sostanza fa esattamente la stessa cosa stiamo cercando di capire quanto può essere sfruttato di questo algoritmo proprio per una manutenzione predittiva quindi è una cosa che ci siamo domandati anche noi non avendo sensori aggiuntivi su questo robot perché vi ricordo che abbiamo soltanto introdotto questo software abbiamo informazioni limitate su cui fare questo tipo di analisi abbiamo principalmente l'assorbimento delle correnti quindi le coppie di ogni singolo aggiunto ma stiamo pensando di sviluppare un pacchetto che poi sarà compatibile con tutti gli altri prodotti come au dove dei sensori dei micro sensori temperatura vibrazioni microfoni messi in punti strategici aiutino proprio nella manutenzione predittiva e in questo stiamo domandando quanto può essere diciamo integrabile anche con l'algoritmo che utilizziamo noi per la collaboratività del cobot sì scusa stefano aggiungo solo che ovviamente argomento separato comau ha la sua piattaforma di pacchetti digital quindi per la gestione di celle linee robot ecco quindi quello c'è in realtà quello quello di cui parlava stefano prima come esempio per rendere per semplificare e del del racer 5 cobot diciamo gira nel racer 5 cobot la base come raccontava stefano stiamo cercando di mettere a fattor comune gli elementi del cobot e gli elementi che già abbiamo sulla nostra piattaforma ingrid che la nostra piattaforma digitale e cercare di semplificare ulteriormente il tutto ecco ma fondamentalmente aggiungo solo ancora un particolare insomma un po il live motive di questo prodotto è un robot industriale che ha delle funzionalità o può lavorare quando è necessario in modalità collaborativa prima l'abbiamo sorvolato ma in realtà quando avete visto il disegno la foto del robot con delle parti bianche delle parti azzurre le parti azzurre alla connessione degli assi sono delle cover che sono fatte apposta per evitare il pizzicamento delle delle dita dell'operatore o comunque delle parti del corpo dell'operatore tra gli assi un esempio banale ma dimostra come questo è un robot che può lavorare in ambiente collaborativo la stesso robot in versione non collaborativa non ha quelle cover e dentro ci si può infilare tranquillamente la mano e quindi col rischio nel momento in cui il robot muove gli assi di essere pizzicati ecco piccoli dettagli ma che rendono il concetto che è un robot che di base industriale e che se ci sono le condizioni a risk assessment eccetera necessità può lavorare in modalità collaborativa quindi non interrompe la sua produzione la riduce ma non interrompe credo che signor luca sia possa essere soddisfatto della della risposta e allora siamo a 31 minuti quindi il tempo a disposizione infatti signor luca dice ottimo perfetto siamo contenti è il tempo a nostra disposizione sta ultimando quindi questo punto avremo un 4 5 minuti per guardare dentro la sfera di cristallo abbiamo parlato di 5g insomma abbiamo parlato di futuro non abbiamo ancora stiamo così siamo in fase di transizione 4.0 ma già si parla di fabbrica 5.0 quindi vi chiederei secondo il vostro credo e credo di comau quale quale sarà il ruolo della robotica in futuro e soprattutto che cosa state dove vi sta portando la ricerca insomma direi che oggi ne abbiamo avuto un bel esempio ecco se potete dare dirci qualche anticipazione ci provo la giornata con una domanda come questa devo dire i numeri vincenti del super non dicendo meno male che non c'è il toro che gioca stasera perché altrimenti sarebbe stata più facile indovinare la risultato del torino purtroppo per me ma comunque dove una veramente una domanda la sfera di cristallo onestamente quindi dicevo che allora indubbiamente la robotica c'è ci sarà e crescerà crescerà no lo sappiamo ce lo diciamo siamo deletti in tutte le salse possibili immaginabili cresceranno le applicazioni ci saranno nuove applicazioni in cui la robotica si integrerà la tecnologia il 5g che dicevamo tutta una serie di sensoristiche banalmente i sistemi di visione stanno diventando sempre sempre più accessibili sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista economico quindi questo apre il campo a diversi tipi di applicazioni quello che noi riteniamo è un po il concetto è stato è passato più volte durante le giornate con voi ma non solo i consigli in generale è quello di avere comunque la persona donna uomo che sia comunque presente al centro e la robotica collaborativa di cui il rs5 cobot speriamo sarà uno degli elementi ci giocherà la sua la sua parte diciamo ha un ruolo fondamentale quindi la fabbrica buia c'è esiste ma esiste in determinate condizioni in determinate applicazioni settori più in generale il robot e il robot collaborativo su tutti con tutti gli utenti con tutti i tool di contorno perché il robot da solo è una cosa ma il gripper un'altra il laser scanner o quello che c'è il sistema di trasporto eccetera intorno sono tutti elementi che devono essere come si è già detto più volte tool per l'operatore e come appunto con il nostro mantra human manufacturing stiamo continuando ad andare in questa direzione facciamo automazione la vogliamo fare con i robot però la vogliamo fare con dei robot o altri prodotti che diciamo aiutino l'operatore a risolvere a semplificare la sua vita diciamo così per esempio l'esoscheletro è uno degli elementi che abbiamo uno dei prodotti che abbiamo negli ultimi due anni messo sul mercato che non è un viene chiamato robot dagli addetti ai lavori ma in realtà per noi diciamo storici addetti ai lavori della robotica antropomorfa assolutamente non lo sono ma danno un aiuto all'operatore esattamente come il cobot di cui stiamo parlando oggi quindi per rispondere onestamente io personalmente vedo comunque la robotica sempre in crescita ci saranno applicazioni che forse scompariranno si ridurranno ce ne saranno delle altre che cresceranno il mondo della general industry cioè tutto ciò che non è una scoccauto è talmente ampio che pensiamo al campo dell'agricoltura su cui ci sono diciamo attività in pista se si apre quel mondo quando si aprirà non se ma quando si aprirà quel mondo avrà la differenziazione dei rifiuti insomma ce ne sono veramente tantissimi e tra l'altro mi hai offerto un assist per così avvisare il pubblico che ci segue e nella giornata domandi domani parleremo anche di robotica di servizio ma in maniera diffusa quindi la robotica che entra come detto tu nel mondo dell'agricoltura in altri ambiti della della nostra vita quotidiana insomma che aggiungere io non ho più domande dal pubblico non ne stanno arrivando quindi direi grazie massimo grazie stefano per per arrivato una domanda in extremis se è possibile gradirei in contatto con il relatore comau parte tecnica grazie speravo la parte commerciale onestamente ma va bene non importa comunque niente signor sandro sicuramente avrete modo di nei prossimi giorni eh faremmo in modo di mettervi in contatto insomma è il nostro ruolo stampa tecnica b2b business to business quindi vi metteremo sicuramente in contatto grazie massimo grazie stefano grazie al pubblico che ci ha seguito e vi invito a continuare a farlo nella giornale nella giornata di domani con altri sette tech talks assolutamente interessanti e importanti ciao massimo ciao grazie a tutti grazie a tutti buona serata grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao 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 ciao